ciao vittorio sono qui a guardare questa macchinina e diciamo da lontano fa una bella vicinanza ecco però se la guardi da vicino ovviamente c'è un po di po di difetti vari non credo che possa soddisfare i tuoi criteri vittorio la macchinina è discreta e bella insomma però ovviamente c'è tutta una serie di cosine da rifare ovviamente niente ti faccio vedere qualcosina insomma se uno non ha troppe pretese male non è però ovviamente a vedere quello che fai anche tu vittorio i tuoi lavori qua non ci siamo ecco in buona sostanza sarebbe da investire ancora un po di soldi d'altronde il prezzo è allettante anche un po per quello perché tutto sommato è sana però c'è come puoi vedere anche qualche scotto vedi quello che c'è i pannelli anche tutti brutti staccati guarda poi dove cosa ho notato questa roba lì guardate che cagata vittorio non va bene insomma 4 5 secondo me qua ce ne devi spendere altrettanti per farla proprio bella 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 però vedi antirombo saldature guarda anche la guarda lì che saldatura ah Grazie.